Anticipazioni Endless Love. La trama della serie prende una piega decisiva quando Kemal fea una scoperta sconvolgente. La casa che cinque anni prima fu il palcoscenico di un oscuro evento, dove Ozan cadde vittima di un intricato piano ordito da Emir, l'astuto manipolatore. Emir aveva ingannato Ozan convincendolo di aver commesso un omicidio, una mossa diabolica che lo costrinse a sposare Nian contro la sua volontà. Determinato a svelare la rete di menzogne e segreti intorno ai suoi cari, Kemal decide di esplorare da solo quella casa, simbolo delle manipolazioni di Emir. Durante la sua ricerca, Kemal trova un computer apparentemente abbandonato, che si rivela essere ancora attivo e collegato alle telecamere di un'altra abitazione. Questo ritrovamento si rivela cruciale, poiché Kemal inizia a comprendere l'entità della rete di sorveglianza e controllo tessuta da Emir. La scoperta lo porta a riflettere su quanto profondamente il suo nemico abbia infiltrato la vita di coloro che lo circondano, alimentando la sua determinazione a smantellare le macchinazioni di Emir. Questo sviluppo della trama non solo approfondisce la complessità dei personaggi e della narrazione, ma rafforza anche il tema del controllo e della manipolazione, evidenziando come il passato continui a influenzare il presente in modi inaspettati e talvolta devastanti. Gli spettatori sono catapultati in un vortice di suspense e rivelazioni, ansiosi di vedere come Kemal utilizzerà queste nuove informazioni per affrontare Emir e liberare se stesso e i suoi cari dalle grinfie del nemico. Nel corso della sua ricerca su Emir, Kemal assembla rapidamente i frammenti del mistero che lo avvolge e giunge a una scoperta scioccante. Nella casa apparentemente innocua si cela la madre malata di Emir, che è anche la moglie di Galip. Questa rivelazione è particolarmente sconvolgente, poiché la donna era creduta morta da oltre 25 anni. Una falsa verità che ha segnato molte esistenze. Questo nuovo elemento spinge Kemal a riflettere fino a che punto Emir sia disposto ad arrivare per proteggere i suoi segreti e mantenere il controllo sulla sua vita personale. L'esistenza segreta della madre di Emir, celata al mondo esterno e persino ai membri più intimi della famiglia, rivela un livello ancora più profondo di inganno e manipolazione da parte di Emir, che ha utilizzato la falsa morte come uno strumento per plasmare i suoi piani senza interferenze. Con questa consapevolezza, Kemal si trova di fronte a una situazione intricata e pericolosa, dovendo decidere come utilizzare queste informazioni, consapevole che ogni sua mossa potrebbe avere conseguenze significative, non solo per la sua vita, ma anche per quelle di coloro coinvolti in questa rete di menzogne. La tensione sale mentre il pubblico osserva Kemal, lottare, con il dilemma morale e strategico di rivelare la verità, o proteggere coloro che potrebbero essere danneggiati dall'emergere di questi segreti. Attenzione spoiler! Emir ordina un attacco contro Kemal. Nel frattempo, Nian e Onder scoprono che la madre di Emir è ancora viva. Questa rivelazione offre loro un'opportunità strategica e pianificano attentamente come e quando svelare il segreto, per minare Emir, sperando di scuotere il suo controllo e metterlo in difficoltà. Mentre Nian e Onder tessono la loro trama, Emir, completamente all'oscuro delle loro intenzioni, si concentra sulla sua agenda vendicativa. È furioso con Kemal per averlo tradito, soprattutto per aver rivelato a Galip l'esistenza di un contratto falsificato, progettato per incastrarlo e mandarlo in prigione. Questo colpo basso da parte di Kemal, che ha esposto le oscure macchinazioni di Emir a suo padre, ha profondamente ferito l'orgoglio e la posizione di Emir all'interno della famiglia e dell'impero aziendale. Deciso a ripagare Kemal con la stessa moneta, Emir inizia a orchestrare una serie di mosse subdole, calcolando ogni passo per assicurarsi che Kemal subisca le conseguenze del suo tradimento. Il piano di Emir è studiato nei minimi dettagli per colpire Kemal nei suoi punti più deboli, utilizzando la sua rete di influenze e risorse per garantire che la vendetta sia devastante. La tensione nella storia cresce esponenzialmente, mentre si assiste a un intricato gioco di potere, dove ogni personaggio deve valutare le proprie mosse e le potenziali contromosse degli avversari. Dopo una festa organizzata nella residenza di Galip, Emir sfrutta l'occasione per mettere in atto il suo piano di vendetta contro Kemal. In un ambiente carico di festeggiamenti e distrazioni, Emir dà segretamente l'ordine a due dei suoi fedeli scagnozzi di isolare e aggredire Kemal. Questi uomini ben addestrati e crudeli si avvicinano a Kemal nel corso della serata e lo attaccano brutalmente, accecati dalla confusione generale. Nonostante la gravità dell'attacco, Kemal riesce a sopravvivere, seppur gravemente ferito. L'aggressione, pur riuscita nel causargli gravi danni, fallisce nel suo intento finale di privarlo della vita. Questo risultato parziale lascia Kemal ferito, ma ancora determinato a lottare e a cercare giustizia per le azioni subite. Il fallito tentativo di omicidio aggiunge un ulteriore strato di tensione e urgenza alla storia. Ora Kemal, ferito ma più determinato che mai, rappresenta una minaccia ancora maggiore per Emir. In questo punto cruciale della narrazione, diventa essenziale prestare attenzione ai prossimi sviluppi, poiché potrebbero portare a cambiamenti significativi nei rapporti di potere tra i personaggi. Kemal, ora pienamente consapevole del livello di ostilità e pericolo rappresentato da Emir, potrebbe adottare misure drastiche per proteggersi e contrattaccare. Nel frattempo, Emir, frustrato dal fallimento dei suoi piani, potrebbe diventare più disperato e pericoloso, aumentando il rischio di ulteriori scontri violenti. Questo segmento della narrazione richiede quindi un'attenzione particolare, per comprendere come ogni personaggio reagirà alle nuove sfide e minacce, preparando il terreno per un escalation di suspense e azione. Vi anticipiamo che in un colpo di scena cruciale, poco prima dell'aggressione a Kemal, uno degli alleati più fidati di quest'ultimo sarà riuscito a infiltrarsi negli interni ben sorvegliati della residenza di Galip. Questa persona, agendo con grande astuzia e discrezione, aprirà la cassaforte di Galip, un forziere custodito che contiene segreti oscuri e compromettenti. All'interno della cassaforte, l'alleato di Kemal trova e sottrae alcune chiavette su cui Emir ha meticulosamente archiviato tutte le registrazioni dell'omicidio della prostituta, un crimine di cui Ozan è stato ingiustamente incolpato. Le chiavette sono di vitale importanza, poiché contengono le prove che potrebbero non solo scagionare Ozan, ma anche esporre le manipolazioni e le atrocità commesse da Emir. Questa mossa audace e strategica, mette nelle mani di Kemal un vantaggio significativo. Il possesso di tali prove lo pone in una posizione di forza, dandogli il potere di influenzare non solo l'esito delle dispute legali e personali contro Emir, ma anche di rivelare al mondo la vera natura delle azioni criminali di quest'ultimo, mettendo così in discussione la sua reputazione e il suo potere. Kemal e i suoi alleati dovranno decidere con cautela come e quando utilizzare queste informazioni esplosive, mentre Emir, di fronte alla minaccia di essere esposto, potrebbe reagire in modi sempre più imprevedibili e pericolosi. Subito dopo essere stato ferito nell'aggressione, mentre Kemal cerca di riprendersi dallo shock e dal dolore, il suo telefono squilla inaspettatamente, all'altro capo della linea c'è una voce familiare, ma turbata. È Nian, che con tono affranto e tra, le lacrime lo supplica di non visionare il contenuto delle chiavette, che contengono materiale tanto cruciale quanto pericoloso. La sua richiesta è carica di emozione, mentre chiede se ancora prova un briciolo di amore per lei, e Jili chiede di restituirle quelle chiavette entro un'ora, in un luogo segreto che verrà comunicato solo a lui. Questa telefonata aggiunge un nuovo livello di complessità alla già intricata rete di eventi e decisioni. Nian, visibilmente scossa e disperata, teme le conseguenze che la rivelazione di quelle informazioni potrebbe avere su di lei e sulle persone a lei vicine. La sua richiesta non è solo un appello emotivo a un sentimento passato, ma anche un tentativo disperato di proteggere ciò che rimane della sua vita, ormai irrimediabilmente intrecciata con gli oscuri segreti che quelle chiavette contengono. Kemal si trova davanti a un profondo dilemma morale e personale. Da un lato, nutre il desiderio di vendetta e la necessità di svelare le verità nascoste per porre fine alle manipolazioni di Emir. Dall'altro, il legame con Nian è ancora vivo e lei lo implora di fare una scelta che vada contro i suoi principi di giustizia, per motivi personali e affettivi. Questa situazione mette Kemal alla prova, costringendolo a bilanciare il suo senso di giustizia con le conseguenze emotive che la sua decisione potrebbe avere sulle persone che ama. Questo momento di alta tensione non solo sottolinea la profondità dei legami e dei conflitti personali tra i personaggi, ma rafforza anche il tema della fiducia e del sacrificio, ponendo le basi per ulteriori sviluppi drammatici nella trama. Gli spettatori rimangono in attesa ansiosi di scoprire quale percorso sceglierà Kemal. Nonostante sia profondamente combattuto, tra il desiderio di giustizia e i suoi sentimenti personali, Kemal alla fine si lascia sopraffare dall'amore che prova per Nian. Ferito e ancora convalescente dopo l'aggressione, si mette al volante della sua automobile spinto dalla necessità di incontrare Nian e risolvere il tormentoso dilemma. Guidando con difficoltà a causa delle sue condizioni, raggiunge il luogo segreto concordato per il loro incontro. Una volta lì, con un gesto che dimostra il profondo legame che ancora li unisce, Kemal restituisce a Nian le chiavette. Dopo un addio carico di emozioni e non detti, mentre la tensione del momento si attenua, Kemal, sopraffatto dal dolore fisico e dalla fatica emotiva, perde i sensi. Poco dopo che Nian si allontana, il destino interviene fortunatamente quando, mossa da un presentimento, decide di tornare indietro e trova Kemal riverso a terra, incosciente. Presa dal panico ma determinata, Nian agisce rapidamente prestando cure e trasportando immediatamente Kemal all'ospedale più vicino. Questo gesto tempestivo e coraggioso si rivela cruciale, poiché le sue azioni salvano effettivamente la vita di Kemal. Questo intenso scambio non solo rafforza il legame tra Kemal e Nian, nonostante le circostanze avverse, ma mette anche in luce la profondità del loro affetto reciproco e la complessità delle loro scelte morali. Il gesto eroico di Nian, che salva la vita di Kemal, segna l'inizio di una fase pericolosa per lei. Entra in possesso delle chiavette che contengono i filmati custoditi con estrema gelosia da Emir. Questi video sono pezzi cruciali di un puzzle molto più grande legato agli intrighi e alle manipolazioni di Emir. Quando Emir scopre che i video sono spariti, la sua rabbia esplode incontrollabile. La situazione si complica ulteriormente quando suo padre, Galip, gli rivela di aver preso le chiavette senza il suo consenso, aggravando così la tensione tra i due. Emir, preso dal panico e furioso per la perdita di un vantaggio così strategico, accusa ingiustamente suo padre di furto, non sapendo che in realtà è stato Kemal a recuperarle e Nian a ritirarle. Questo introduce un nuovo livello di pericolo per Nian, poiché ora si trova al centro di un vortice di segreti che potrebbero distruggere non solo la sua vita, ma anche quelle di chi le sta vicino. La sua posizione diventa estremamente precaria, poiché Emir, noto per la sua spietatezza e determinazione, farà di tutto per recuperare quei filmati e ripristinare il suo controllo sulla situazione. L'incidente catalizza ulteriori conflitti e aumenta la posta in gioco nella narrazione, spingendo i personaggi verso decisioni sempre più disperate. Con Nian ora vista come una minaccia diretta da Emir, la tensione si intensifica. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti Voglio il continuo e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!